bella a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video qua al brics che vi parla volevo fare giusto giusto un video velocissimo per dirvi un paio di cosette e farvi vedere che finalmente sono tornato 6.000 questa è una stagione che veramente mamma mia è veramente dura non riesco a trovare un mazzo decente per salire dopo vi faccio vedere con che mazzo sono salito è carino prima di iniziare vi ricordo di commentare condividere e mettere un bel mi piace al video per darmi il più supporto possibile io vorrei farvi notare una cosina che non so se molti di voi hanno visto non so se molti voi hanno notato io mi sono chiesto perché è detto ma vediamo i facci su un video la nuova diciamo schermata d'avvio di clash prima di partire con la classica schermata viene fuori questa immagine i 10 con la candelina io lo giuro inizialmente pensavo fosse per la stagione 10 altro anno iniziato a mettere le numerazioni delle stagioni che carino e no 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 proprio perché hai cannato alla grande non c'entra assolutamente niente ma non c'entra assolutamente niente quello che è la verità è una sola fra poco il decimo anniversario della supercell adesso vi faccio vedere quando è nata la supercell siamo qua direttamente sul sito di wikipedia sotto la pagina della supercell se voi fate caso la supercell azienda finlandese ha come data di fondazione il 2010 quest'anno 2020 quindi è il decimo anniversario quindi non c'entra assolutamente niente con le stagioni o altro perché alcuni mi chiedevano ma avete visto cosa serve o non serve ragazzi è semplicissimo è il decimo anniversario della supercell se noi vediamo bene bene adesso a memoria il giorno preciso dovrebbe essere indicativamente intorno a maggio ecco se voi vedete la fondazione supercell è nata il 14 maggio del 2010 io adesso non voglio mettere presupposti non voglio dire nulla che magari possa essere preso come diciamo condiziosine ma noi stiamo aspettando questo fatidico fatidico aggiornamento da parte di supercell per clash royale che dicono che sarà aggiornamento il maggior update quello che volete questo maggior update io io so con certezza che comunque questa è una certezza che sono tutti a fine season ogni fine season la supercell rilascia il bilanciamento delle carte più diciamo il reset delle coppe e questo qua quest'anno questo mese succederà esattamente fra 10 giorni a partire da oggi a partire da questo video 10 giorni vuol dire che se oggi è il 23 d'aprile indicativamente il 2 di maggio dovremmo avere della nuova stagione con l'aggiornamento e bilanciamento delle carte non è che per caso qualche giorno dopo quindi verso 14 sarà questo maggior update visto che supercell vorrà celebrare il decimo anniversario sono tutte supposizioni mia nessuno ha niente non ci sono link ufficiali quindi i miei sono solo supposizioni adesso cambiamo completamente argomento non vedere finalmente con che mazzo sto scalando questo qua un mazzo che mi è stato consigliato da un giocatore che comunque attualmente è abbondantemente sopra le 6500 quindi comunque il giocatore che ne sa e mazzo in questione è classico pekka ram quindi hai pekka baby dragon la rete della battaglia e wiz e wiz è intercambiabile con l'arcere magico io l'arcere magico non ce l'ho maxato quindi non posso usarlo a queste coppe la bandita e il fantasma e poi hai due spell come la zap e la veleno vi faccio vedere giusto giusto perché tanto poi il video probabilmente non verrà né troppo corto o lungo ma non voglio starvi qua annoiare vi faccio vedere giusto l'ultima partita che ho fatto il ladder che mi ha portato alle 6.000 l'ultima partita che ho fatto è questa ero contro tmd ivortex vediamo insieme un secondino ero proprio ero tipo a 5980 non voglio dire poi controlliamo bene quindi iniziamo a darci good luck a vicenda va bene io sono qua aspetto di solito questi qua sono mazzi che aspetti quando hai una mano così non fa niente vado di fantasma lui si difende con il bandito quando vi sono bandito ho detto ecco bene abbiamo trovato contro uno spell deck un uguale identico un mirror deck ero convintissimo ha detto è un mirror deck c'è bandito c'è baby dragon adesso mi lancia mi lancia pure probabilmente io non ho ben alto le whiz ecco perfetto abbiamo lo stesso lo stesso identico deck la differenza però che c'è tra il mio e il suo è che lui punta quasi tutto attacco con il il ciclo del miner io invece devo andare attacco con batterram qua non so come difendermi vabbè piazzo il peccone davanti mi butta via sicuramente mi pulisce abbastanza bene la mi rimane mi rimane anche con un po di vita non so neanche come ho fatto ad avere un po di vita altro è piano piano adesso ripartiamo vediamo prova a dargli un po di value mettiamo dietro questo baby dragon e probabilmente provo andare direttamente col batterram sì perché qua volevo andare un po cattivo c'era il pecc che mi dava un po di supporto e riesce a colpire la torre adesso sono bei problemi decido di difendermi in primis con l'elettrowizard e poi metto il fantasma dietro sul suo e whiz perché devo tirarlo giù qui sono danni enormi ho preso una caterva di danni e lui leggermente anche in vantaggio di zier questa non è la partita proprio bene qui canna completamente il posizionamento del miner perché mi ha lasciato fare una marea di danni io riesco a farmi beccare solo un colpo dal miner e probabilmente la dashata non viene io qua ho giocato una poison perché sapevo che mettevo qualcosa devo sperare che il whiz cada e io mi difendo con il pecca pecca contro pecca logicamente e whiz mio da dietro qua probabilmente riparto subitissimo attacco non gli do tempo di pensare voglio andare cattivissimo però a zap perché so che lui ha qualcosina pipistrelli e la bandita dascia e dascia questa è stata pazzesca lui difende col pecca qua in stessa metà lì tra col pecca io non avrei fatta perché intanto torre l'hai persa come fai puoi ripartire velocemente io qua so che se anche lui dascia non riesce in tempo tra secondi e quindi gg per me o come dicono i miei luigi per me ragazzi volevo portarvi giusto giusto questo per non far durare video troppo corto comunque ho fatto più 28 euro a 5984 quindi 6012 quindi pulito pulito io direi che per questo video è tutto ragazzi vi ricordo di lasciare qualsiasi video commento per aiutarmi e per far crescere il canale detto questo vi ringrazio ancora volta alla prossima bella ciao 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 ciao